E nella giornata di venerdì santo invece vengono proposte a tutti, in particolare a lavoratori e studenti del centro storico, tre ore di preghiera da mezzogiorno alle tre del pomeriggio presso la chiesa di San Nicolò degli Albari. Il venerdì santo è il giorno di digiuno, lo ricordiamo, e questo momento di preghiera viene proposto per ricordare le ultime ore della passione del Signore.